La giustizia farà il proprio corso e la giustizia il proprio corso lo sta facendo. È il caso del Tar Molise che si è pronunciato contro un provvedimento del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, che inopinatamente ha escluso l'emittente Telemolise dai contributi statali per l'informazione previsti dalla legge 448 del 1998. Sulla base di un presunto errore materiale nella domanda e senza alcuna valutazione sulla effettiva incidenza dell'errore presunto, il Corecom ha vergato un frego sul nome Telemolise e di conseguenza sulle oltre 40 vite e famiglie dei dipendenti che operano nella principale emittente privata regionale. A curare il ricorso sono stati gli avvocati Massimo Romano e Giuseppe Ruta. Il Tar Molise ha accolto integralmente la tesi difensiva di Telemolise e ha per l'appunto accolto la sospensiva e ordinato al Corecom di riesaminare il punteggio e la graduatoria. In sostanza si era verificato che il Corecom aveva escluso Telemolise dai benefici finanziari, quindi dai contributi pubblici, della legge statale, la legge 448, rilevando un errore nella domanda di presentazione relativa ad un indipendente su oltre 40, dove sarebbe stato omesso di indicare la data di scadenza del rapporto di lavoro, postecipandola di due mesi. Rilevato l'errore, era stata la stessa emittente a comunicarlo al Comitato per le Comunicazioni, che per l'appunto si preoccupa di redigere l'istruttoria, comunicando che si trattava di un errore che non avrebbe determinato alcunché, cioè non avrebbe inciso sulla graduatoria. A questa comunicazione in realtà il Corecom non ha mai neppure risposto e ha decretato direttamente, senza altri tipi di valutazioni e di istruttorie, l'esclusione diretta dell'emittente Telemolise da questi contributi pubblici, il che avrebbe comportato e ha comportato un danno gravissimo all'emittente, perché ricordiamo da prima era stata già esclusa dalla legge regionale sui contributi pubblici regionali, la legge sull'editoria, e poi successivamente addirittura anche da quelli statali, che aveva sempre conseguito da anni ormai, essendo la prima emittente sia per dimensioni d'azienda che per livelli di ascolti. Dopo la pronuncia dei giudici amministrativi, il Corecom dovrà riaprire la graduatoria e riformularla sulla base delle prescrizioni del Tar. A questo punto, diciamo, è onere del Corecom eseguire l'ordine del giudice e disporre per l'appunto il riesame nel più breve tempo possibile, perché evidentemente c'è un impatto sia relativamente al problema dell'informazione, ma anche una rilevanza grandissima su livelli occupazionali della stessa azienda. Come per il mugnaio di Potsdam, alla fine c'è sempre un giudice a Berlino in cui confidare. Senza andare lontani, questo finalmente è anche il caso del Molise.